Quando riguarda il discorso alimentare, di produzione, di collegamento agroalimentare, esportazione più 5,1. Quanto riguarda le bevande più in generale, più 6,1. Sono due dati che non hanno uguali nel campo nazionale e che ci posizionano come un elemento attrattivo del sistema internazionale. Voglio dire che il territorio è un territorio che produce prodotti di qualità, prodotti che equivalgono a un territorio sano, un territorio che si esprime come posto ideale per la ricreazione e anche per vivere il turismo e quindi tutti insieme sostengono un'esportazione molto interessante. Grazie a tutti.